Il vecchio e il nuovo. Il nuovo e il vecchio. La faccia del gaming verrà completamente stravolta da ciò che state per vedere. Vediamo ora come i ragazzi di Infinity Ward abbiano applicato il più grande gradiente di emozionalità nel primo Call of Duty. La vostra vita. Non batterete contro gli invasori fascisti con tutte le vostre forze. Per ogni soldato sovietico che immolerà la propria vita, il nemico pagherà con dieci dei propri uomini. Non ci sarà pietà per i disfattisti, i codardi e i traditori. Chiunque sarà scoperto a disertare, verrà fucilato. Ricordate gli ordini del grande compagno stale. Non cedere di un passo. Sarete bene sbagliati per questo scontro e per le battaglie a venire. Avrete cibo, acqua, armi e munizioni in quantità. E cosa credete che abbiano i tedeschi? Noi! Le loro linee di fornimento sono troppo disperse. La loro corsa verso il Volga vi ha privati del sostegno necessario per affrontare la battaglia. La nostra forza, i nostri numeri e il nostro coraggio. La vittoria non ci sfuggirà. Fermeremo di invasori fascisti qui, a Stalicano! Attenzione! Stanno portando! Uccidiamolo! Ordei traditori! Traditore! Non ritiratevi! Uccidetevi! Uccidetevi! Mi serponi! Fermate! Non c'è la domanda! Un uccivio viene ucciso! Avanti! Andi fuori dalla marco! Tutti fuori dalla marca! E cosa aspettate? Fuori dalla marco! La guerra. La brutale guerra è una delle frasi più famose nel contesto di Kot. L'altro raccoglie l'arma e combatte al suo posto. L'uomo parte del cilio. L'altro manca di punizione. Il due troppo difficile muore. Il nostro armamento è il diritto di T-2. L'uomo parte del cilio. L'altro combattere. Il senso di T-2. L'uomo parte del cilio. 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 L'u Bene, compagno. La stessa cosa. Fai tu per primo. L'obiettivo è quella pratica distrutta. Aspetta che cambi nel caricatore. Sei pronto? Ok, vai, vai! Bene, amico Dio. Non sei molto fortunato, hai una testa molto piccola. Saremo Dio al più duro in quelle difficilazioni. Non ti preoccupare di tutto il disagio. Me ne occuperò io. Rollo. Ok, vai, vai! Fuori, codaggio. Sarebbe nell'artiglieria di supporto, serviente. Sono quasi senza punizioni. Così perderemo i paoli. Cosa stiamo? Credi che stia cercando di fare? No? Ripeti l'ultimo messaggio. Miesco a malapena a sentire il mio maggiore. Parla! C'è un'interiazione. Eh? Punizione. Però ora voglio un salvamento completo lungo la solità del merdine. Aviam persi quei bastardi passati. Poco, poco la strada. Giù la testa, tutti! La strada. I tedeschi stanno ripiegando. Avanti, compagni, stiamo riconquistando la piazza rossa! Non cedete di un passo! Non cedete di un passo! Non cedete di un passo! Per la madre Russia, compagni! Non abbandonatela! Vittoria o morte! Non cedete di un passo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.